ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono alessandro oggi giochiamo a minecraft con maya finalmente siamo riusciti a metterci le skin vabbè io già ce l'avevo adesso maya finalmente riceve della mia e adesso possiamo giocare un attimo in prima persona ok messa adesso e facciamo maglia siamo in survival stiamo facendo una survival anche se questo l'abbiamo fatto in creativa ah comunque se vogliamo tipo colpirci non possiamo usare le spade perché sennò moriamo perché sennò moriamo sicuramente non fare come prima che mi coppisci di continuo perché non ti posso dare altri pet allora questo è un progetto che non vi possiamo ancora svelare è una sorpresa vabbè comunque avete soltanto una stradina di ghiaccio e comunque stamattina prima che prima di giocare con maya in un'oretta ho fatto questa mega build però qui muoio il problema a cui si è accaduto muoio invece bravo uso rimasto con pochi cuori che bello sto scensore però è spera volevo far vedere la scensore che ho fatto stamattina letta fanno entrare la porta oh mi ha colpito ma su ma andiamo su tac perché qui non siamo su java edition che si può fare con l'ascensore con i pistoni quindi ho preferito fare questo ho fatto un bel sentierino per arrivare volete sapere perché l'ho fatto lì proprio lì sotto perché lì sotto ci sta lo spawn proprio del mondo e se si muore spawni lì e quindi ho fatto un ascensore per farlo comodo per non andare di continuo in creativa da com'è stato alla fine dell'ultimo video flashback mezzo uguale mezzo uguale no 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 ragazzi no ragazzi sono pure avversa la mia roba no aspetta dove sono? che poi dopo il video sono dovuto andare in creativa vabbè vi lascio al video ciao dove vai mai a kit kat? ah giusto vorremmo anche provare a scendere funziona? si funziona si ma vuoi salire però bellissimo bellissimo ah pure io la doro in realtà andiamo a fare cos'altro non lo so tipo ma comunque ragazzi siamo in pacifica siamo guardate adesso vi faccio vedere i miei animali domestico questo è il panda che si chiama Mima non lo so ma si chiama Mima è una mangiona e andiamo col secondo aspetta un attimo lo so lo so e questo è l'unim il mio gattino ciao infatti se io lo colpisco però non volevo colpirlo scusa allora molto arrampicarsi e sedersi sotto le sedie comunque ormai io ho rifatto un po' di design alla casa tipo questa casa io l'ho costruita io mi ho messo poco fa qualche roba e il letto se ne è messa da sola giù però bell'idea comunque risparmiere lo spazio non mi devo vedere qui qui sopra l'abbiamo fatto insieme venite sì abbiamo fatto qualche chiamata per farlo o se è caduta no allora vabbè dai andiamo sul serio adesso qui ho un po' ho rifatto un po' di design questo grano l'abbiamo fatto insieme ma l'ho costruito prima io e poi dopo l'abbiamo fatto se vedi qui un coso è perché l'ho rubato e ho fatto il pane oddio scusa vabbè adesso andiamo su come vedete se piace il design è un'ikea maia è un'ikea tipo un'ikea si chiama mog ovvero maia oggetti gratis e sapete la cosa? l'ho costruita quasi tutta io sì tipo la struttura l'ha fatta maia ho fatto io le basi le basi le ha fatte maia e io ho fatto tutta la build adesso è da arredare ancora nel prossimo video lo vedrete tutto arredato perché da un po' di tempo che è finito calcolate che tutto questo l'abbiamo fatto in moltissimi giorni ok adesso che vogliamo fare senza che muoio aia andiamo a vedere la casa che stavo costruendo poco fa a far ho finito a buildarla ma dobbiamo arredarla sì quindi torno a casa di maglia per ora piccolina aia quanti cori ti ho levato? tre tre e mezzo quindi è la spada aspetta ma se andiamo in creativo e ci prendiamo quello in legno almeno vero aspetta adesso ci devo droppare questa ok siamo in survival adesso con le spade in legno e quanti cori? ah ci mi togli sempre tre eh attenta perfetto aia mi torto due due cori ok ah no scusa no non volevo comunque non si può dormire in questo server perché è sempre al giorno questo questo giorno è tutt'uno giorno siamo sempre a mezzogiorno vabbè qui ho fatto la scritta SOS e ci ho messo io lo slime sopra ok ci ho messo io lo slime sopra vi faccio vedere il senso di questa scritta se mi se mi no scusa non volevo mi sa che le spade qui non sono adatte scusa maia ecco ti ridò la roba aspetta usa l'ascensore aspetta vengo a vedere si è sponata dentro i blocchi o dove si è sponata ho preso tutte le cose ah ma come hai fatto non hai usato l'ascensore come hai fatto ad arrivare là non lo so dove si è sponata allora ero sponata qua dove ah in casa qui si ah quindi abbiamo lo sponata vabbè per quelli nuovi l'ho fatto apposta l'ascensore dunque non sapevo che la spada toglie così tanto a questo punto la cancelliamo sta spada e prendiamo lo facciamo a mano però vabbè è divertente faccio vedere il senso di questa scritta con lo slime sopra ah perché poi c'è i diamanti che io stavo facendo una cosa ah te lo darei io giusto comunque possiamo fare una cosa spero se vado in creativa vabbè lo farò dopo oddio mi lagga aiuto mi lagga mi lagga mi lagga ah lagga lagga prova a colpirmi forse mi si toglie il lag ok un po' si è tolto eh mi ritorna però devo non tornarmi dal ghiaccio ok si è tolto il lagga aia no 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 sto cadendo nella caverna comunque vabbè io non può esplorare una caverna qui sul piccone ferro quel rischio di morire ma vabbè buttiamoci ho perso solo tre cuori quanto una hit io ho due tamaya puoi venire qui senza che moriamo dobbiamo cercare qualche risorsa aia diamanti maglia diamanti diamanti prendi diamanti 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 prendi diamanti vai piglia 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 vai ah ma sono pure di più con un blocco vai no questi me li piglio io aspetta dai un attimo aspetta che ho il piccolo ferro io mi devo mettere in creativa perché devo prendere vabbè dai vabbè dai vedete un po' incredibile dobbiamo esplorare uh quando c'è lava significa altri diamanti da qui devo stare attento però no l'acqua mi porta mi porta i cosi no 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 cerco di prendere un blocco aspetta c'è qua c'è aria di mostri qui c'è aria di mostri servono delle torce ok si sta seccando la lava sta diventando buio comunque ma ya è buio ah lava no brava vabbè andiamo andiamoci nella nostra caverna comunque mostri qui non ci sono perché siamo in pacifica scusa non volevo ce l'hai un blocco di terra vabbè io ti aspetto su ce l'ho 4 solo ok siamo già 11 minuti dai prima che il tablet mi si impalla ma ya mi sta hitando nel frattempo ah c'è la spada in ferro io sono diamante incantata vabbè visto che sei in creativa a me ne puoi prendere anche una a me in ferro di spada non sono più in creativa sono in sottofilenza siamo quella in legno vogliamo fare un poco poco di battaglia mi soddisfa un po' mi ricorda le bad wars mi ricorda però senza la cosa in ferro ti prego usa il legno perché se no mi ammazzi aspetta prima di colpirmi ci mettiamo l'armatura aspetta guarda ce l'avevo qui conservata però non mi metto quella a neaterire perché quella è troppo ce l'hai la spada in diamante usiamo quella in diamante incantata entrambi aspetta un attimo aspetta ma ya non sono pronto aspetta aspetta che qui muoio io aspetta qui ci muoio io o te sei troppo brava sei pure da telefono io da tablet aspetta mi si bagga la visuale aspetta no sto morendo io sono abituato come fai aspetta mi fanno male i muscoli delle braccia che muore ti morirà io sto togliendo due cori ferma pia quella legno pia quella legno prendi quella legno ferma non mi colpire ora mi shifto qui senza che mi colpisci eh lo sapevo che lo fai aspetta però spostiamoci vai sono morto ok sono morto non prenderti la mia roba rinasci ah sono rinato nel letto tuo e mi ripiglio la roba dove la roba ah ok eccola vedi che c'è la roba per la mia nuova casetta prima cosa il letto giallo ovviamente il letto giallo comunque non so perché questa cosa è più grande di quella tua adesso che ci sono metto anche se puoi metti il letto viola e facciamo per entrambi in realtà la mia è più grande della tua ok però facciamo una cosa ragazzi adesso stoppiamo la registrazione perché se no dura troppo il video infatti siamo già a 20 minuti siamo a 17 alla fine mi sa che non ho più registrato perché non trovo la registrazione quindi ciao